Sono qui come cittadino italiano perché chiedo giustizia, sono qui come familiare delle vittime del Movi Prince perché credo che la riforma della giustizia che è necessaria non sta certo nel processo breve che dà l'impunità ai colpevi. Sono qui per rivendicare un diritto, quella è la giustizia per la tragedia del Movi Prince, sono passati vent'anni senza colpevoli e sono qui per portare la mia solidarietà alle famiglie dell'Aquila e di Viareggio che hanno vissuto il nostro stesso dolore e forse non vedranno mai processo. Io sono Andrea Maccioni, faccio parte dell'associazione Il mondo che vorrei della strage di Viareggio. Io nella strage ho perso mia sorella di 39 anni e miei due nipoti di 2 e 5 anni, Luca e Lorenzo. Siamo qui oggi a Roma per il processo breve perché per noi non è il processo breve, qui si parla di prescrizione breve. Noi abbiamo paura che il processo di Viareggio finisca tutto in prescrizione e per noi sarebbe una doppia befa, oltre a soffrire tutti i giorni per la mancanza dei nostri cari, anche quello di non vedere un processo soprattutto non breve ma giusto è quello che ci interessa a noi e le parole del Ministro Alfano di ieri non ci hanno assolutamente tranquillizzato perché la prescrizione dei 23 anni per noi non vuol dire niente, sono anche la durata dei gradi di giudizio che diminiranno, sono tutti piccoli allarmi che non ci fanno stare tranquilli.